Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dai quotidiani regionali andando ad osservare le prime pagine. Partiamo dal centro, andremo a vedere le quattro edizioni provinciali. La prima pagina che andiamo a vedere è quella di Pescara, muore un mese dopo l'incidente, il titolo di apertura. Massimiliano Scuderi, 50 anni, era volontario della Croce Rossa, lascia moglie e due figli. Poi nelle cronache, sgomberato il ghetto di via Ariosto, Montesilvano, cacciati di casa, 120 immigrati. Ancora nomine regione, ecco Rivera, l'uomo degli incarichi da Pescara, spiagge libere sporche, oggi inizia la pulizia. A centro pagina la fotonotizia, Orso d'Abruzzo, perché lo amiamo, come conviverci, rispettiamo la natura serbatica e l'articolo di Giuliano Di Tanna. Nel taglio basso Farindola, Rigopiano riparte con la baita, torna a fare a Rosticini la struttura vicina all'hotel distrutto dalla valanga. Nel taglio alto, tragedia nel torinese, neonato lanciato dal balcone, la madre è sotto accusa. Continuiamo con la lettura del centro, passiamo all'edizione di Chieti-Lanciano-Vasto, affitti alti, commercio in crisi e l'apertura a Chieti allarme per i negozi in centro, appello della Tiberio, subito i canoni calmierati. Nelle cronache da Lanciano tariffe dei rifiuti sbagliate, stangata per 1746 attività con il comune che ha chiesto scusa. E poi ritroviamo la notizia che riguarda la regione sulle nomine, in particolare quella del direttore generale Rivera e poi Chieti del vecchio via al processo per il caso Cus. Nel taglio basso, ancora un'altra notizia da Lanciano, tribunale in rosa con di serio, si insedia il nuovo procuratore capo e dice felice di tornare qui. Andiamo avanti con la lettura del centro. Nell'edizione di Teramo obbliga i figli a lasciare la scuola, giudizio un padre padrone di Silvi li costringeva a filmarlo mentre li picchiava. E poi nelle cronache, dopo il caso del Grande Italia, guerra degli ombrelloni anche per il Babila e ancora Giulianova ok al bilancio ma è a rischio la maggioranza che sostiene il sindaco Mastromauro. Sempre da Giulianova esame in cinese al liceo Chiuri, due prove per la classe che studia la lingua da cinque anni. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona. Progetto case, pilastri marci, il titolo di apertura L'Aquila, infiltrazioni d'acqua, ha coppito due, sfollate 24 famiglie e 70 persone dormono in hotel. E poi nelle cronache, giovane morto a Prato la Peligna, l'addio ad Antonio sulle note dei Pin Floyd e ancora da Celano. Antidormi finisce in cella, rischia cinque anni e poi da L'Aquila la voce di Ranieri alla perdonanza. Il cantante napoletano ripropone il concerto saltato nel 2016. Dunque tornerà Massimo Ranieri all'Aquila. Andiamo avanti, sempre con i quotidiani regionali. Adesso andiamo a vedere la prima pagina del messaggero nell'inserto Abruzzo. Sgomberato il ghetto di Via Riosto e il titolo di apertura blitz in massa delle forze dell'ordine nel quartiere di Monte Silvano, trasformato in centrale di produzione delle false griff e piazza di spaccio della droga, sfrattati 200 senegalesi. Poi l'intervista a Paolo Fusero, periferie come bombe sociali. La storia ci ha insegnato che la segregazione sociale e i quartieri dormitorio producono degrado. L'urbanistica indica nella rigenerazione urbana la strada per ripartire. Un tema ovviamente che si collega a quanto è successo ieri a Monte Silvano e più in generale al degrado delle periferie, soprattutto nell'area metropolitana. Ancora scene di guerra. Nella fotonotizia stranieri disperati, tensione con gli italiani. Dove porterò a dormire i miei bimbi? Giulio ha 48 anni e senegalese. Fa il bracciante insieme ad altri 200 connazionali, molti dei quali implicati in attività illecite. Ha dovuto lasciare la sua casa in via Ariosto. Durante il blitz non sono mancati momenti di tensione con i residenti italiani. Lasciamo questo argomento per spostarci all'Aquila. Evacuato palazzo del progetto case con le travi marce ancora disagi per gli occupanti degli alloggi provvisori. 23 famiglie in strada. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo a pagina 41 firmato da Ianni. Ieri pomeriggio ben 23 famiglie e 67 persone in tutto sono state fatte evacuare dagli alloggi antisismici del progetto case di Coppito 2 all'Aquila. Le infiltrazioni d'acqua hanno reso le strutture a rischio di stabilità. Secondo la dirigente comunale Enrica De Paulis, subito arrivata sul posto, l'edificio, uno dei 19 complessi costruiti dalla protezione civile per ospitare gli sfollati del terremoto del 2009. Il risultato privo della guaina di protezione alla base delle travi portanti di legno, progressivamente dunque indebolite dall'acqua. E poi la storia. I masterplan arruolati anche i frati Roccamontepiano. La storia arriva dal paese alle falde della Maiella. Sarà l'ordine dei frati Caracciolini a gestire i fondi del masterplan per il restauro della chiesa. Andiamo a vedere di spalla. Buongiorno ceramica, botteghe aperte a Castelli. La rinascita del paese della ceramica in provincia di Teramo. Il paese piegato dal doppio sisma riparte dai talenti artigiani. Nel taglio basso l'Aquila verso il voto. Silveri recuperare il ruolo di capoluogo. Paghiamo lo scotto dell'isolamento. L'Aquila non è riconosciuta come capoluogo. Questo dice l'ex manager della ASL. Ora candidato a sindaco all'Aquila. Nel taglio alto Riti d'Abruzzo. Domani torna. Cala lenta. La magia della pesca sui trabocchi. E poi notte di note. Bollani, Fresu e Manhattan Transfer. Stelle del Pescara Jets. E ancora il calcio a 5. Pescara a caccia dello Scudetto. Parte oggi l'avventura playoff. E in casa alle 20.30 la prima sfida tricolore con la Luparense. Colini privo dell'infortunato Salas. Mentre i Veneti ritrovano Bertoni. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo che apre con l'inchiesta Castrum. Sequestrato il dossier Mastro Pietro. Mazzetti a Giulianova. Nella ditta del marito. L'elenco con le altre potenziali vittime della dirigente. E poi congedo elettorale. Un mese di ferie pagate per 20 agenti. Tutti candidati a Castrogno. Notizia che arriva dal carcere Teramano. E ancora torniamo invece a parlare delle mazzette a Giulianova. Autosospesi. Due consiglieri citati nelle carte. Poi le intercettazioni. moglie e marito agivano in stile mafioso. E ancora la politica. Il PD salva Mastro Mauro per l'ultima volta con il voto sul bilancio. E poi commissariato il PD Teramano. Come anticipato dalla città lo guiderà Sandro Mariani. Andiamo nel taglio alto. Roseto riproposta all'area per nudisti. Borsacchio da spiaggia naturale a naturista. E poi Roseto degli Abruzzi. Movida estiva musica fino alle due di notte. Nel taglio basso la Lega Pro. Il Teramo ha scelto. Il prossimo di esse sarà Sandro Federico. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso andiamo a dare un'occhiata ai titoli dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Italia vulnerabile. Il debito ci frena. Ora si intervenga. Banca Italia alla difesa di Visco. Vigilanza corretta. Ieri la relazione di Visco per quanto riguarda Banca Italia. E poi a centropagina. Stati Uniti. Lo staff uscirà dalle intese di Parigi. Clima. Trump verso lo strappo. Dunque l'uscita dall'accordo di Parigi. Torniamo alla politica interna. Renzi-Alfano. Scontro finale. Governo a rischio in Senato. Angelino ministro di tutto dice Renzi. Da MDP non c'è la fiducia alla manovrina. Andiamo ancora avanti con la Repubblica Rissa-PD-Alfano. Verso il voto ad ottobre. Banca Italia. Intanto dice l'emergenza e il lavoro. Renzi dice ministro senza voti tu fai carriere ai governi. Voucher MDP fa muro e boccia la fiducia. Riforme da approvare. Passo avanti sull'antimafia. Le associazioni non buttiamo anni di battaglie. E poi nel taglio alto il dossier. Trump vuole strappare l'accordo sul clima. Ma negli Stati Uniti è già protesta. Unione Europea e Cina resistono. Altri paesi invece sono con il Presidente degli Stati Uniti. E poi c'è l'intervista a Luigi Di Maio per i 5 Stelle. Primari in estate. La legge elettorale non è un inciucio. Sappiamo che c'è stato l'accordo tra i tre principali partiti. Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico per la nuova legge elettorale. Andiamo sulla stampa. Banca Italia. Servono sforzi eccezionali. Così il governatore Visco che lancia questo appello ai politici. Adesso programmi chiari e fondati sulla realtà. Maggioranza ai ferricorti. Intanto Renzi ad Alfano. Hai fatto il ministro di tutto e non prendi il 5%. Tornando a Banca Italia. La relazione di fine mandato. Il debito e le banche ci rendono più vulnerabili. Preoccupazione per il lavoro. Misure effimere. E poi una notizia importante nell'ambito dei viaggi oltreoceano. Viaggiare al tempo delle low cost. Renzi un errore chiudere Flixbus con Norwegian da Roma a New York per soli 180 euro euro più euro meno. Insomma una grande rivoluzione se il progetto dovesse trovare l'appoggio dei viaggiatori. Una grande rivoluzione nei viaggi verso gli Stati Uniti. torniamo alla politica. Davigo a fondo contro il PD al convegno dei 5 Stelle. Il magistrato il centrosinistra ci ha messo se non in ginocchio almeno genuflessi. E poi l'economia. Macron apre il caso STX. Resti francese. Continuiamo sul fatto quotidiano. Parlano le toghe. Il convegno alla Camera voluto da Di Maio c'è anche Cantone. Davigo dice i governi PD peggio di Berlusconi e Di Matteo apre ai 5 Stelle. L'ex presidente della NM. Il centrodestra faceva cose grosse. Il centrosinistra più mirate ci ha genuflessi. Lui non intende scendere in campo. Il procuratore antimafio invece afferma. Un PM in politica è utile. Poi la giornata politica. Si salvi chi può. Renzi scarica il Fano. Ministro con tutti e non fa neppure il 5%. Troviamo la relazione di Visco. Visco si assolve ma alle due banche Venete resta solo un mese di vita. Considerazioni finali. Rischio Beilin a fine mese per Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Andiamo sul messaggero adesso. L'apertura. Battere il debito per risalire. Visco il governatore di Banca Italia. L'incertezza politica frena l'economia. Adesso serve uno sforzo eccezionale. L'attacco sulle banche. Unione Europea più forte nel proibire che nel fare i disoccupati ai minimi da 5 anni. E poi ritroviamo lo scontro sulla legge elettorale. Arriva il maxi emendamento. Scontro tra Renzi e Dalfano sulla quota del 5% di sbarramento. Manovra intanto fiducia ok. Rischi invece al Senato dove i numeri sono più risicati. Il caso risorse. Contratto degli statali verso il rinnovo. Salvi gli 80 euro. E poi a centropagina gli esteri. Trump cancella l'accordo sul clima. Cina e Unione Europea vanno avanti. E ancora sgambetto Macron. Troppa Italia nei cantieri. L'Eliseo vuole ridiscutere l'acquisizione di STX da parte di Fincantieri. Continuiamo sul quotidiano Il Tempo. Restando ai quotidiani romani. La Raggi sfratta i Rom e li dà casa. Titolo che riguarda la capitale in primo piano. Il piano del sindaco con i soldi europei. Un tetto, un lavoro, scuola ai bimbi e sanità. Ma gli zingari protestano. Solo fumo e niente arrosto. Insorge anche il centrodestra. E poi per rianimare Roma serve subito un miliardo. Forum del Tempo. In comune con un'industria e gli assessori di punta. Colomban e Meloni. Ancora a Fini dissi che la casa valeva il triplo. Parla il senatore Caruso. L'ex tesoriere Pontone. Fece lui il prezzo per quanto riguarda l'inchiesta che interessa l'ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini ed ex leader di Alleanza Nazionale. Gentiloni rischi al Senato. Continuiamo con la politica. Botte da orbi tra Renzi e Alfano. Governo in bilico. Andiamo sull'unità. Trump libero di inquinare il titolo di apertura che riguarda la notizia che il governo Trump vuole uscire dall'accordo di Parigi e poi rimosso l'ultimo ostacolo Alfano Chi per quanto riguarda la polemica sulle soglie di sbarramento nella legge elettorale. Poi una notizia invece che riguarda più da vicino l'unità. Il giornale che non c'è da tre giorni l'unità è presente solo sul web per gli abbonati. Il quotidiano infatti non è più in edicola. Lo stampatore non viene pagato da mesi e ha fermato le rotative. L'editore non prende impegni né con i fornitori né con i lavoratori che continuano a lavorare senza avere lo stipendio per un quotidiano che non viene stampato. Andiamo sul manifesto. Il titolo sulla fotonotizia passo di voucher. La reintroduzione dei voucher passa alla Camera con il voto di fiducia ma Udc e articolo 1 escono dall'aula per protesta. La battaglia ora si sposta al Senato dove il governo rischia. La CGL prepara la manifestazione del 17 a Roma contro lo scippo del referendum. La legge elettorale. Ecco l'italo tedesco ad alta velocità per quanto riguarda il maxi emendamento per la nuova legge elettorale. Ora andiamo nel campo del centrodestra con Libero. Il quotidiano diretto da Feltri apre con la stessa notizia che abbiamo trovato sul quotidiano Il Tempo. Case popolari solo ai Rom. Altra iniziativa scema del sindaco di Roma. La Raggi chiude due campi nomadi e destina milioni di euro per trovare un alloggio e pagare l'affitto ai gitani. Un atto di tradimento nei confronti dei centomila residenti nella capitale che vivono sotto la soglia di povertà. Centropagina. Renzi e Berlusconi fregano i piccoli. Volano gli insulti Alfano e Meloni sull'orlo di una crisi di nervi. Andiamo sulla verità. Pezzi d'Italia fuori controllo e l'apertura con la pistola d'acqua contro i criminali. Aggressioni nelle stazioni di Milano e di Roma. Violenze a Ferrara nell'ex MOI di Torino. Non si entra perché, come dice il governo, gli immigrati sono troppi ma usano gli idranti per cacciare i turisti. E poi liberalizzazioni shock. Bollette su del 22% è impennata in sei anni. L'apertura del mercato non ha prodotto benefici e le tasse mordono. Continuiamo sempre con i quotidiani nazionali. Ora andiamo sul dubbio. Davigo ai 5 Stelle. Io sarò la vostra guida. Ovazione per il magistrato al convegno sulla giustizia organizzato dai grillini. E poi a centropagina. Voucher al Senato. La fiducia è a rischio. Alfano, Bersani e altri sul piede di guerra. Gentiloni sempre più in bilico. Il Papa. Chi era costui? Trump straccia l'accordo sul clima. L'ambiente esce dall'agenda USA. Donald giura. Così torneremo grandi. Ora andiamo su avvenire. Trump rovina il clima. Il presidente ha deciso di uscire dall'intesa di Parigi. Europa e Cina rafforzano l'impegno. Avanti da soli. E poi strage alle ambasciate. Kabul riaffoga nel sangue. Ieri c'è stata un'autobomba che esplosa di nuovo a Kabul. Continuiamo sempre con i quotidiani nazionali. Adesso andiamo a vedere il mattino di Napoli. terra dei fuochi, più tumori, incidenze e mortalità superiori alla media. Gli esperti ma pesa anche lo stile di vita. E poi il mattino e la sera o la festa della cultura. Il galà dei 125 anni del giornale. Ancora Renzi scarica Alfano. La manovra a rischio. Le tensioni sulla legge elettorale. Poi l'ambiente. Clima. Lo strappo di Trump divide il mondo. Stoppa l'intesa di Parigi. Unione Europea e Cina vanno avanti. Andiamo sul secolo decimo nonno. Il quotidiano genovese apre con la relazione di Visco per quanto riguarda Banca Italia. L'ultima spinta di Visco per quanto concerne la crisi. Le governatori di Banca Italia servono sforzi eccezionali. Alto là ai partiti. Manovra intanto sia la fiducia a Montecitorio. Legge elettorale. Renzi scarica Alfano. Centropagina. Macron gela fincantieri. San Nazare. Il presidente sconfesso on land su STX agli italiani. Continuiamo con la gazzetta del mezzogiorno. Renzi schiaffo ad Alfano. Non può bloccare il paese se non raggiunge il 5%. Il ministro insulta ma non risponde. Fa cadere Gentiloni. Questo è il titolo sulla politica. E poi ridulle gli esuberi all'Ilva. Spiragli dalla Bellanova. La viceministra. Il governo non resta a guardare. Oggi sciopero di quattro ore contro i tagli previsti nella acciaieria. E poi Bari sì. Foggia no. Emiliano scriva Trenitalia. Treno veloce per Roma. La Puglia protesta. Uno. Non basta. Andiamo sul gazzettino. Il quotidiano del nord-est. Credito. Popolare di Vicenza. Guerra giudiziaria. Renzi. Non c'è alternativa al salvataggio delle banche venete. Visco critica l'Europa. Troppo lente. Inchiesta trasferita a Milano. Procura contro il GIP. Scelta abnorme. Vanificato il sequestro di beni per 106 milioni di euro. adesso andiamo avanti con i quotidiani nazionali ma andiamo a vedere i titoli dei quotidiani economici e finanziari. Il sole 24 ore sforzo eccezionale per superare la crisi nell'apertura del giornale dedicata alla relazione di Visco a fine mandato in Banca Italia. Vedete la stretta di mano fra il governatore e il presidente della BCE Draghi. E poi ad aprire balzo record dei nuovi posti disoccupati all'11,1%. E a centropagina XA un asse per reinventare l'Europa. Nel taglio altro il focus del giornale manovrina sia la fiducia ma senza i voti di MDP e Udc. Andiamo su Milano Finanza. Banche Venete ora si prova con i fondi Rischio Belini. Il tesoro cerca di coinvolgere i private equity nel salvataggio di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Circolano in particolare i nomi di Center Bridge, Atras e Warburg Pincus che già nell'estate scorsa si erano avvicinati al dossier e che ora potrebbero sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi dei due istituti ma la strada è in salita. Ancora Banca Italia. Anche Draghi affianca a Visco. L'inconsueta presenza del presidente della BCE è stata interpretata come un appoggio al governatore. Le considerazioni finali attaccano l'Unione Europea sulle banche e incalzano il governo sul debito pubblico. Nel mirino la quota di Cari Trieste. Macron debutta male prendendosela con l'Italia. Torna in discussione la vendita di STX France a Ficcantieri. L'Italia oggi. La manovra incassa la fiducia. Il titolo di apertura. Ritornano i voucher. Proroga di nove mesi per i dirigenti delle entrate. Stop gli studi di settore. Via le monete da 1,2 centesimi. Agevolazioni alle start-up. Questo è un po' il riassunto della manovra varata dal governo. E poi l'Inps fa la guerra al lavoro fittizio. È già partito Frozen. Un piano di controllo statistico delle denunce contributive mediante incrocio di dati. Continuiamo con i quotidiani sportivi. Apriamo la gazzetta dello sport. Ale Juve del Piero esclusivo. Il Real è fortissimo ma i bianconeri sono più maturi rispetto al 2012. Questa finale dà un senso a tutto. Buffon alza la Champions. Il nostro viaggio. Casa Platini. L'Aisel in auto verso Cardiff con due tifosi speciali. Così la gazzetta dello sport che nel taglio alto mette questa bella fotografia di Valentino Rossi. Vale pista. Ho disegnato per voi il mio circuito da sogno. Oggi visite decisive per Rossi al Mugello. Voglio esserci dopo l'incidente della scorsa settimana. Andiamo nel taglio basso. Telefonate Inter Spalletti. Torna l'idea Luis Gustavo. Roma. Via Salacce. Berardi. Esami ok per Cassi per quanto riguarda il Milan. Dunque idoneo il giocatore prelevato dall'Atalante. Ora il Milan tratta Riccardo Rodriguez. Ancora la partita di ieri tra Italia e San Marino. La Padula e Petagna. Italia a due. Goleada con San Marino. Partita finita 8 a zero. E poi Nicola. Figlio mio non ci sei più. Vinco con te dopo la salvezza raggiunta con il Crotone. L'allenatore ha scritto una lettera al figlio scomparso nel 2014. Ancora il ciclismo. Guardate che delirio. Maastricht rosa per Re Domoulin dopo la vittoria al giro. Andiamo sul Corriere dello Sport. Decido io. Gigio non è uno schiavo. Siamo andati a Monte Carlo a casa Raiola. Il manager di Donna Rumma ci racconta in un'intervista esclusiva. Intrighi, trattative e piani delle portiere che tutti vogliono. E poi il sondaggio di Pagnoncelli. Gli italiani bocciano i club di proprietà straniere. Ancora finale Champions. Febbre Juve. Buffon prenota Coppa e Pallone d'Oro. La Tuppertù di Veltroni con il CT Ventura. La mia Italia esperta ma giovane. NBA da fantascienza. Lebron sfida Curry. Stanotte via le finali in paglio. Un titolo storico. Continuiamo con tutto sport. Intervista al papà di Buffon. Negli occhi di Gigi vedo la Champions. Ha la faccia giusta. Lui la Juve. Fantastici contro il Barça. Ma adesso massima attenzione perché Real e Ronaldo sono straordinari. E ancora lettera al figlio scomparso. Nicola commuove l'Italia. Trovate la lettera scritta dall'allenatore del Crotone. Il Toro di Mia vuole 157 milioni in più da Belotti a Baselli. Vediamo tutti i Granata valorizzati dal lavoro del Serbo. E ancora Generazione 2000. Pellegri Chin per l'attacco millennial. Nel taglio basso la Padula Tris. Tornado nazionale. Ventura sorride. L'Italia sperimentale batte 8 a 0 San Marino. Mercato sprint. Il Milan domina il primo derby. Quattro colpi a zero. L'Inter deve aspettare luglio. E poi il tennis. Fognini e seppi azzurri a duello. Oggi a Parigi alle 14. Chi vince trova Vavrinca. Questo per quanto riguarda le prime pagine. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore con i nostri meteorologi Meteo 6. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna per approfondire le notizie della nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo dunque alle notizie dalla nostra regione andando ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo dalla pagina regionale del messaggero. Masterplan arruolati i frati gestiranno l'appalto milionario da Alfonso. Sceglie i chierici minori di San Francesco Caracciolo per i fondi destinati al restauro del convento di Rocca Montepiano. Affilati ai religiosi tutti i poteri amministrativi del soggetto attuatore. Poi decisione salomonica per non interferire nel derby elettorale tra le due anime del partito democratico sempre da Rocca Montepiano. Le facce della crisi sfratti mille sentenze in un anno record a Pescara e la morosità la causa principale. L'unione degli inquilini chiede lo stop alle esecuzioni e più case popolari. Nel taglio basso cala lenta la magia antica della pesca sulle palafitte da domani a domenica l'evento che animerà la costa dei Trabocchi da Ortona Avvasto. Tanti appuntamenti non soltanto a tavola. Andiamo a vedere adesso il quotidiano il centro. Apriamo la pagina di primo piano dedicata all'orso d'Abruzzo, l'animale simbolo della regione più amato e più temuto. Ne restano circa 50 esemplari e rimane irrisolto il problema della convivenza con l'uomo rilanciato dal recente caso di Villa Vallelonga. E poi pallettoni e diffidenze a Cosimo Ribbiaggio a imbracciare il fucile un operario dell'ANAS. Nel 2014 il caso divise Pettorano con molto scalpore. La voce dei parchi. Antonio Carrara evitare che trovino cibo vicino ai centri abitati. Fenomeno da contrastare per i pericoli che gli orsi corrono e la tranquillità dei cittadini. Il piano di tutela ci consente di mettere a disposizione dell'orso altri territori. Le iniziative e prove di una difficile coabitazione dai frutteti ai risarcimento tentativi del Parco Nazionale d'Abruzzo. E poi l'articolo che segue dalla prima rispettiamo la natura selvatica di Giuliano Di Tanna. Continuiamo sempre sul quotidiano il centro. Andiamo a vedere le altre notizie dalla pagina Abruzzo. Sprechi pubblici. Arap un mese per salvarsi. Carrozzone da 10 milioni. I revisori dei conti puntano l'indice sulla programmazione sui troppi incarichi di consulenze esterne. Il presidente Leombroni riuscirò a dimezzare le perdite. I sindacati CISL e CGL chiedono l'UMI, la UIL verso la Corte dei Conti. Continuiamo nel taglio basso. Nuovo progetto didattico, discipline musicali, scuole da potenziare. Da domani a domenica abbiamo visto torna Calalenta. Andiamo a vedere anche l'altra pagina Abruzzo, sempre del centro. Nomine in regione. In Campo Rivera, uomo degli incarichi. Duca Aquilano, protagonista di una invidiabile ascesa. Ora da DG del dopo Gerardis, deciderà anche sull'ospedale di Chieti. Andiamo adesso a vedere la pagina Abruzzo della città. Messa in sicurezza dei viadotti incostituzionale. Strada dei parchi critica l'emendamento del governo, così i nostri canoni andranno direttamente all'ANAS. Tancredi. Non è accettabile questo stato di incertezza con la concessionaria strada dei parchi che non sa come gestire tempistiche e lavori e con gli abruzzesi che a fronte di una tariffa già assalata tra due o tre anni potrebbero ritrovarsi a pagare i lavori con l'aumento del pedaggio. E poi marcio un pilastro del progetto case. 70 evacuati ha coppito. La dirigente comunale durante i lavori non è stata messa la guena di protezione. C'è un rischio di cedimento strutturale. Torniamo adesso alle notizie dal messaggero. Andiamo ad aprire la pagina di Pescara. Ha cancellato il ghetto di via Ariosto. All'alba l'operazione delle forze dell'ordine per sgomberare le palazzine di Montesilvano abitate da 200 senegalesi. Da Roccaforte delle false griff a centrale dello spaccio la linea dura decisa dal comitato per l'ordine pubblico. In azione oltre 300 tra agenti di polizia, carabinieri, operatori dei vigili del fuoco e del 118 bonificati e subito murati gli alloggi liberati. Le voci. Dove porterò a dormire i miei bimbi? La disperazione di Giulio nel clima di guerra che avvolge il quartiere. Sfiorato lo scontro con i residenti italiani. E poi l'intervista a Paolo Fusero, degrado figlio di disgregazione sociale, la bomba delle periferie e l'eredità del Novecento. Ora ripartiamo dalla rigenerazione urbana. E noi andiamo a vedere le immagini di ieri in via Ariosto nel servizio di Paolo Renzetti. 300 uomini delle forze dell'ordine dall'alba di oggi stanno dando esecuzione ad un'operazione di controllo del territorio in via Ariosto a Montesilvano dove sono state sgomberate delle abitazioni occupate da numerosi cittadini extracomunitari. L'operazione che durerà fino alla serata è stata portata a termine dopo l'ordinanza firmata dal sindaco di Montesilvano Francesco Maragno. In passato, come si ricorderà in via Ariosto, in più occasioni erano state effettuate operazioni di polizia con sequestri di droga e di merce contraffatta. La situazione è sotto controllo. Le forze di polizia hanno operato con grande professionalità. Stanno dando attuazione ad un'ordinanza da me firmata diversi mesi fa che prevedeva lo sgombero dell'area per varie ragioni di ordine, sicurezza, igiene e igiene, oltre che ormai era diventato un problema anche di traffico di stupefacenti, di commercio di stupefacenti perché purtroppo era diventato il punto di riferimento di tanti tossicodipendenti dell'area. Oggi viene ripristinata la legalità in un contesto urbano per noi particolarmente importante perché è una delle zone di maggior pregio della città. È giusto integrare, però l'integrazione passa attraverso il rispetto delle regole e fino a quando non ci sarà il rispetto delle regole sotto questo punto di vista non saremo tolleranti. Si tratta dell'ennesimo blitz qui in via Ariosto. Potrebbe essere questa l'occasione per far sì che questa situazione possa migliorare definitivamente qui nella zona? Io mi auguro, anzi sono convinto che questo sia il blitz definitivo. Oggi sono state impiegate 300 unità delle forze dell'ordine e dopo l'intervento la struttura verrà murata per non consentire a nessuno di potervi accedere. Restituiremo la struttura ai legittimi proprietari affinché la utilizzino in maniera più oculata ovviamente dopo averla ristrutturata. Dalla pagina di Montesilvano del centro riprendiamo il titolo su questa notizia. Lasciati in strada 120 immigrati senza casa, lo sgombero in via Ariosto, liberati i palazzinelle del grado, adesso però serve un piano. Il sindaco Maragno troveranno da soli altre sistemazioni. Le reazioni di Battista dalle parole ai fatti, Orsini, siamo stati coraggiosi. Le polemiche, il PD, così si alimenta l'odio, Liccheri di sinistra italiana, intervenga il prefetto. Intanto l'ex colonia abbandonata Stella Maris viene murata negli altri accessi. Il comune va avanti con i lavori tra un mese, la pulizia dell'interno. Adesso restiamo sempre al quotidiano il centro ma andiamo ad aprire la pagina, la prima pagina di Pescara. Al mare tra i rifiuti, spiagge libere sporche, la pulizia comincia oggi. Degrado ovunque, i mezzi di attiva arriveranno per pulire l'arenile e cureranno le aree fino a settembre. La gestione è affidata dal comune alla Copp e Tabeta e all'Arci. Riviera Sud, ladro catturato da gente fuori servizio ma torna subito libero. Renato Verzulli stava rubando su un veicolo in sosta e il poliziotto l'aveva tenuto d'occhio per altri furti. E poi l'allarme del presidente di Marco, province senza fondi, siamo vicini al dissesto. Continuiamo, muore un mese dopo lo schianto in moto. Massimiliano Scuderi, 50 anni, non ce l'ha fatta. Il 29 aprile si era scontrato con un'auto tra via Polini e via Rigopiano. Via Tavo, l'inferno sotto casa. Torniamo ad occuparci sul centro delle periferie in degrado. Il campetto dei tossici fotografato da un balcone. Lo sfogo di una residente che dopo 30 anni ha deciso di andarsene dal rione. Si bucano a tutte le ore. È giusto che i miei figli debbano vedere tutto questo, dice la residente. Poi sulla strada Pendolo, il covo dello spaccio, l'incompiuta tra via Lago di Capestrano e via Tibultina, è diventata il rifugio per chi vuole drogarsi. Sempre dalle pagine di Pescara, la sentenza. L'Ater deve rimborsare 500 inquilini. Non erano legittimi gli aumenti d'affitto per chi ha ereditato piccoli terreni. Ora l'azienda rischia di pagare un milione di euro. Si arrampica sulla grondaia per entrare nella casa murata, in via Lago di Capestrano e il degrado degli alloggi popolari. Ancora da Pescara, si al nuovo logo per attirare i turisti. Il Comune affida la commessa da 19 mila euro ad un'agenzia. Dovrà rilanciare la città dopo due stati con il mare sporco. Intanto c'è polemica sulle commissioni. 5 stelle e gettoni di presenza per la conferenza stampa. Continuiamo ancora sulle pagine di Pescara e andiamo a vedere sul messaggero un'altra notizia. Devastate le aule cedute al Da Vinci. Attendiamo il ricaricamento dell'applicazione del messaggero per andare a vedere questa notizia che tratta della difficile convivenza a Pescara tra liceo classico e liceo scientifico. Allora riapriamo la pagina. Devastate le aule cedute al Da Vinci. Denuncia di Donatella D'Amico, preside del D'Annunzio. Trovate porte rotte scritte sui muri e altri attivandali. Gire riemerge la difficile convivenza tra classico e scientifico. L'anno prossimo quell'ala dovrà ospitare il liceo europeo. E poi ripascimento e tronchi spiaggiati. Il porto si scopre senza padrone. disputa tra comune e autorità portuale per la bonifica sotto i trabocchi. Padovano dice serve l'assessore al mare. Continuiamo con le notizie dall'area metropolitana e per questo torniamo sul quotidiano Il Centro. Pista cicopedonale ferma. I lavori riprendono lunedì. Il cantiere di Contrada a Pretaro a Francavilla sospeso per consentire alla ditta le ultime rifiniture. Secondo il comune l'opera al confine con Pescara sarà inaugurata a metà giugno. Rigopiano vuole ripartire e riapre la baita della sceriffa. Farindola liberata la strada dal versante terramano che porta allo storico locale. I titolari. Sarà duro andare avanti ma siamo determinati e non ci arrendiamo. Continuiamo ancora. Andiamo a vedere le pagine di Chieti e l'Aquila. esercizi pubblici. L'ispettorato scopre 24 lavoratori in nero e il titolo di apertura. L'Aquila pilastri marci 70 sfollati. Infiltrazioni d'acqua nei muri delle palazzine. Il comune avvia un mega sgombero. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Teramo sul centro. Inferno in famiglia obbliga i figli a lasciare la scuola e a firmarlo mentre li picchia. Passiamo adesso al messaggero e andiamo ad approfondire le notizie dalle altre province. Dunque ripartiamo dall'Aquila e recuperiamo l'apertura della pagina aquilana. Pilastro marcio evacuato il progetto case per le infiltrazioni d'acqua a rischio la stabilità di una piastra. Sgomberate ben 23 famiglie per complessive 67 persone. Il consigliere Tinari Forza Italia annuncia un esposto alla procura della Repubblica. Segnalazioni dal 2014. Secondo la dirigente comunale Enrica De Paulis subito arrivata sul posto non sarebbe stata messa la guaina a protezione dei primi 20 centimetri come potete vedere anche da questa fotografia. Per la perdonanza torna Ranieri. Gessil 3 settembre presentate le indicazioni di massima per i due grandi eventi dell'estate aquilana. Continuiamo sulle pagine del capoluogo. Nessuno ci considera il capoluogo di regione. Duro attacco di Silveri di riscatto popolare. L'aquila isolata e mal rappresentata. Gli anni da ex manager. Bilancio ok e servizi in crescita. I 47 milioni spesi. Qui insomma il candidato a sindaco si racconta. E poi pettinari 350 mila euro per risarcire gli ex atere. La richiesta del consigliere regionale che propone una legge per gli affittuari che pagano più del canone sociale. Il centro-sinistra Moroni aveva mollato torno per ADB presentato il gruppo di Abruzzo Civico. Noi siamo simbolo del civismo. Il centro-destra Forza Italia Germini presenta la lista. Prosegue la sfilata dei big. De Matteis attacca di Benedetto sui fondi dell'Unione Europea. La pagina di Avezzano Sulmona. Indagato per pedofilia finisce in manette. Arrestato un e 56enne di Carsoli avrebbe tentato di intimidire il minore che lo aveva accusato di violenza sessuale. L'uomo non poteva avvicinarsi al piccolo. Scatta l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP di Avezzano. Il bambino a giorni è chiamato a confermare il racconto in un incidente probatorio. Andiamo a vedere adesso la pagina di Chieti. Incubo e superi alla Daico proclamato un altro sciopero. Questa l'apertura con la pagina sindacale. Ieri prima giornata di stop alla produzione. Sabato si tornerà a incrociare le braccia. In 600 tra operai e impiegati temono per il loro futuro. Dicono ora serve chiarezza. Petaccia della CGL. Nessun dialogo e zero investimenti. Se non si cambia marcia l'azienda andrà in declino. E poi la sanità. Asli. Conti in rosso. Project esposto di Febbo all'Anac. Ancora proteste al CUP. Serve l'intervento dei carabinieri sempre per quanto riguarda Chieti. Nel taglio basso. Catene al Palacus. L'Ateneo rischia di pagare i danni. E ancora al campus universitario torna l'Uda Music Festival. La pagina di Lancianova Stortona. Tari sbagliate quasi duemila cartelle. Il sindaco Pupillo e l'assessore Valente chiedono scusa ai cittadini ma le somme andranno pagate lo stesso. Bilancio già approvato. Anomalia scoperta lunedì. Il dirigente si è assunto tutte le colpe. L'errore di calcolo verrà rimediato solo nel 2018 con le modalità che troverete leggendo l'articolo. E' polemica. La Polucci. Amministrazione informata da mesi. Fatto gravissimo. E' inaccettabile. Nel taglio basso. La procura sarà una casa aperta. Si è insedato il nuovo procuratore a Lanciano. Mirvana Di Serio. Un piacere tornare. E' qui. Queste le sue prime parole. Andiamo adesso a vedere per quanto riguarda il messaggero anche l'apertura della pagina di Teramo. L'ex ospedaletto è un problema. Non può essere neanche venduto. Sull'immobile pende. Un vincolo storico. Possibile il restauro ma solo parziale. Il manager Fagnano. Non faremo nulla. Non spenderemo soldi della collettività. Chiedo alla regia se è pronto il servizio. Allora lo vedremo più avanti. Intanto continuiamo con la lettura del nostro giornale. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Giulianova, Roseto e Val Vibrata. Il sindaco resiste via libera al bilancio a Giulianova. Apriamo adesso la città. Il quotidiano della provincia di Teramo per andare a vedere le altre notizie dal Teramano. La deriva legale. 20 agenti candidati al carcere di Castronio non è solo passione per la politica. Godono di un mese di aspettativa retribuita per la campagna elettorale. Il fenomeno? Quasi tutti si candidano nei paesi sotto i mila abitanti dove non serve nemmeno raccogliere le firme per le liste. Andiamo ancora avanti. Viabilità. L'ANAS non si riprende le strade provinciali. Rigettate le richieste della provincia di Teramo per risolvere il problema di fondi e manutenzioni. La furbata. La provincia ha più volte ritenuto irricevibile la proposta ANAS che voleva riprendersi la SP 259 con gli investimenti già messi in cantiere. Continuiamo sulla città. Ufficiale il PD Teramano è commissariato. Inutile alla protesta dei Dalfonziani del capoluogo. Il segretario regionale Rapino ha nominato Sandro Mariani. Anestesia innovativa per operare i cardiopatici. Notizia di sanità. Al Mazzini. Quattro interventi su tumori alla mammella con una rivoluzionaria tecnica introdotta dal Rizzoli. Ancora sulla città. Tre commissioni per rilanciare la Citeramano. Il presidente Carmine Cellinese vara un nuovo regolamento con l'obiettivo di riorganizzare la struttura. Una commissione per il turismo e la cultura. Una per la viabilità e i trasporti e una dedicata allo sport. Per la festa della Repubblica domani la cerimonia in Viale Mazzini per il 71esimo anniversario. Andiamo nella pagina della Val Vibrata. Tortoreto al voto. Ripartiamo dalle esperienze e dalle motivazioni. La ricetta di Domenico Di Matteo. Una squadra formata da persone preparate e da giovani volenterosi. Ancora Katia Reginella ricorre alla Corte europea. L'avvocato di nanna. Interrogatorio tortura per la mamma del piccolo Jason. Le condanne. La donna e l'ex marito sono stati condannati per l'omicidio del figlio di appena due mesi. Continuiamo sempre sulla città e arriviamo alla pagina di Giulianova Mosciano. Mazzette in comune. Sequestrato il dossier degli interessi della Mastropietro. Nella ditta del marito la finanza ha trovato un elenco di altre probabili vittime della coppia di Giulianova. In carcere Maria Angela Mastropietro, Stefano Di Pilippo, Andrea e Massimiliano Scarafoni. I domiciliari Carmine Zippilli, Sergio Antonilli, Nello Di Giacinto e Filippo Di Giambattista. Questo per quanto riguarda l'inchiesta Castrum. Nel taglio basso autosospesi due consiglieri citati nell'inchiesta. Ragni e Mustone di civicamente non indagati compaiono in due passaggi chiave e si sono dunque autosospesi. Adesso apriamo la pagina dello sport e torniamo sul quotidiano Il Centro per andare a vedere appunto le notizie che riguardano lo sport regionale. Recuperiamo dunque la pagina sportiva. La SPAL Giuliese in Serie A. L'Abruzzese di adozione, Antenucci, gol e carattere, il piccoletto diventa grande. Poi la terza promozione in carriera del grosso Viva l'esperienza, non mi fermo. E se Zeman chiedo alla regia, eccola qui, di farci vedere la pagina dello sport che propone anche il Pescara con le parole di Fiorillo. Il Pescara progetta il futuro, Fiorillo e le porte girevoli. Zeman Fidati di me. L'estremo difensore si racconta con il lavoro del Boemo e dimagrito alcuni chili. Fatale il K.O. con il Chievo. Quest'anno è mancata l'umiltà per centrare la salvezza. L'insidia a Pigliacelli. Ho cercato di mettermi in mostra perché voglio rimanere e poi cancellare e ripartire. I punti presi fotografano l'annata che abbiamo fatto. Queste le parole di Fiorillo che ieri ha ricevuto il premio come biancazzurro dell'anno ad Elice. Nel taglio basso la Serie B Castori e Baroni. Finale playoff in salsa abruzzese. I tecnici di Carpi e Benevento si giocano la promozione dopo gli anni passati tra Lanciano e Pescara. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del messaggero. Andiamo dunque a recuperare la pagina. Pescara rivoluzione in difesa. Fornasiero unico confermato. Meccariello obiettivo principale. Sebastiani rivuole Campagnaro ma deve convincere Zeeman. Il tecnico ha dato il suo assenso per il Bergha. Vandhausen dalla Paganese arriva a parametro zero il centrale Carillo. E poi le parole di Fiorillo. Al Pescara non servono altri portieri. Questa l'intervista ieri come detto quando ha ricevuto il premio come Biancazzurro dell'anno. Andiamo a ascoltare dunque Vincenzo Fiorillo. Vincenzo Fiorillo votato come miglior Biancazzurro dal periodico Cronache Abruzzesi. Una bella soddisfazione in una stagione che di soddisfazioni Vincenzo ne ha regalate davvero poche. Beh sì sicuramente è un premio che vale doppio perché ricevere un riconoscimento in un'annata del genere mi rende quando me l'hanno detto ero molto contento perché onestamente non me l'aspettavo. Ecco poi voi che sareste in grado di criticare anche Buffon quindi è un premio che vale triplo doppio. Dieci partite giocate in questo campionato nell'ultima parte di campionato quando gran parte dei giochi retrocessione purtroppo erano già fatti nonostante tutto si è riuscito a sfoderare buone prestazioni. Questo è importante anche per lanciare un messaggio a Zeman in vista della prossima stagione. C'è anche Vincenzo Fiorillo. Beh sì dopo la matematica retrocessione onestamente il mio unico obiettivo era quello di convincere il mister perché la mia volontà appunto è quella di rimanere qua e di rimanere come portiere titolare. Quindi ho provato in questi due mesi a fare a far vedere qualcosa a lui per per poter far parte appunto del nuovo progetto. Nuovo progetto ma ci sono lo saprai avrai sentito anche dei rumors si parla di Pigliacelli che tornerà a Pescara per fine prestito si fa anche il nome di Brignoli portiere del Perugia insomma ci sarà da lottare il prossimo anno per restare a Pescara e per essere il portiere titolare del Pescara in Serie B. Ma guarda ne parlavo prima io da quando sono qua ho avuto la fortuna di fare due finali playoff ecco e una una persa come sappiamo una l'ho vinta un altro campionato l'ho vinto a Livorno quindi diciamo che in Serie B ho i fatti dicono che io ho sempre giocato per vincere poi i nomi dei portieri che circolano è normale che ci sia perché il Pescara in Serie B è sempre stata una società e una squadra tra tra le prime quindi probabilmente sono anche tanti quelli che vogliono proporsi al Pescara più quelli che il Pescara magari vorrebbe realmente. Adesso la Lega Pro andiamo a vedere l'apertura della pagina di sport della città Teramo ha scelto il prossimo DS e Federico il dirigente ex San Benedettese ad un passo dall'accordo col diavolo per l'ok mancano solo gli ultimi dettagli rapporto rapporto Pescara-Teramo la collaborazione tra i due club si farà ancora più forte e parte della campagna acquisti del diavolo sarà di marca bianca azzurra più staccati Antonio Bocchetti e Massimo Epifani. Ormai ci siamo quasi col dirigente manca davvero pochissimo mentre per l'allenatore in vantaggio l'ex centrocampista così scrive il nostro collega Jacopo Forcella nel taglio basso la serie D il San Nicolò saluta Francesco Micciola il divorzio è ora ufficiale andiamo a vedere gli altri titoli sul centro la Lega Pro il Teramo spunta d'Angelo ma Palladini resta in pole position si aspettano le mosse del patron Campitelli per il futuro in agenda un incontro esplorativo con il DS Federico e poi la serie D l'Aquila via libera alla cessione il presidente Chiodi illustra i termini dell'intesa con Desimoni al CDA potrebbe restare in panchina Battistini slitta oggi l'incontro tra Del Grosso e Lavezzano stasera festa a promozione a Pratola Peligna per i Nero Stellati andiamo sul messaggero andiamo a vedere anche gli altri titoli dello sport del messaggero Teramo un passo avanti per Federico e Palladini quasi raggiunto l'accordo col DS che si affiderebbe all'ex Samba in alternativa a Epifani e Bocchetti scrive Ania Cantagalli andiamo ancora avanti sul messaggero Pescara da stasera salto allo scudetto siamo al calcio a 5 inizio in casa le 20 e 30 la serie finale dei playoff contro la Luparenze Colini privo dell'infortunato Salas mentre i Veneti ritrovano la stella Bertoni andiamo a vedere anche le altre notizie sul quotidiano il centro il basket di A2 il pivò del Roseto Sherrod gran gruppo e Roseto è fantastica l'americano protagonista in campo e fuori con il disco inciso per beneficenza dagli stenti iniziati fino alla cavalcata playoff e la società vorrebbe trattenerlo scendiamo B Montregranaro avanti 2 a 0 Campli ora punta sul pubblico la serie della finale playoff si sposta da domani al pala Borgognoni nel taglio basso Puca Zuccarini e Latino pronti a stupire le migliori promesse dell'atletica abruzzese al Brixia meeting di Bressanone il tempo a nostra disposizione è finito mattino 6 dunque torna domani mattina vi ricordo alle ore 8 per quanto riguarda la nostra informazione invece gli appuntamenti canonici con il TG6 alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti